Ora parliamo di noi, prende il via questa sera su Rete8 un nuovo appuntamento televisivo, Traguardo Lavoro, una trasmissione interamente dedicata all'occupazione con Mila Cantagallo e Andrea Mori. Traguardo Lavoro è un incontro tra domanda e offerta con la partecipazione di attori del tessuto produttivo della regione e persone in cerca di una stabilità lavorativa. Il programma va in onda in diretta a partire dalle 21, ospiti in studio dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di agenzie di lavoro interinali che illustrano posizioni aperte nelle loro imprese. Gli interessati possono rispondere all'indirizzo email traguardolavoro-rete8.it o chiamare in diretta durante la trasmissione.